Rinviato a giudizio Mario Quaglieri, assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Quaglieri non passerà per l'udienza preliminare ma andrà direttamente a processo. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica dell'Aquila, Marco Maria Cellini, ha infatti chiesto e ottenuto dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale del Capoluogo Abruzzese, Marco Billi, il giudizio immediato. L'udienza collegiale è stata fissata al 10 dicembre prossimo. L'accusa dalla quale Mario Quaglieri sarà chiamato a difendersi è quella di peculato. L'indagine da cui è scaturito il processo a carico di Mario Quaglieri riguarda l'utilizzo dal 2013 al 2024 di una sim telefonica intestata e pagata per un totale di oltre 6.600 euro dal comune di Trasacco in provincia dell'Aquila. Amministrazione della quale Quaglieri è stato sindaco dal 2012 al 2018 e poi consigliere fino al maggio del 2019.